San Francesco Nel terzo mistero della luce si compensa l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro, che se ne scegli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto il frutto al del tuo seno, Gesù. Grazie. Grazie. Oh Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Voglio inalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di laccanti, hai posto la difesa contro i tuoi avversari. Per ridurre al silenzio, mi unici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue vita, la luna e le stelle che tu hai vissato. Che cos'è mai? Che cos'è mai? L'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne puoi? Che cos'è mai? Che cos'è mai? Che cos'è mai? Che cos'è mai? Grazie a tutti. 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 e poi faccio la benedizione. Le nostre piazze e le nostre chiese, omite a Francesco, custodiscono ancora viva l'eco della tua parola che nasceva dal silenzio e dalla povertà e per questo profumava di Dio e entrava nel cuore perché veniva dal cuore. Oggi fate Francesco, poverello di Dio, le strade sono mute di parole perché il rumore occupa ogni spazio consumando la vita che non è più vita. O Francesco prega per noi affinché diamo voce a Cristo con una vita piena del Vangelo e con le parole fedeli alla parola. Guidaci nelle vie dei cuori e delle città senza forza e senza ricchezza, senza orgoglio e senza vanità per annunziare con umiltà e letizia che Gesù è il Salvatore del mondo. Amen. Ci benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ringrazio tutti, cominciando da quelli che prima ho pronunciato per ultimi, la confraternita maschile della parrocchia, la Piaunione, le Rosariane e tutto il popolo di Dio. E naturalmente ringraziamo la giunta rappresentata dal sindaco e da altri esponenti che sono venuti qui ad onorarci dalla loro presenza. Auguri a tutti e buon proseguimento di serata. Adesso sarà accesa una piccola batteria qui alle spalle, alle spalle, alle spalle da questa parte, di fronte a voi. E lui ci può andare? E lui ci può andare? E lui ci può andare? E lui no!